Lo sforzo in particolare come occasione di riscatto, la UISPA ha organizzato una corsa podistica e un torneo di calcetto nel carcere di Marassi. Enzo Melillo. Un momento di evasione nel senso migliore del termine, perché quelli che hanno partecipato sono tutti detenuti modello, che stanno effettuando un buon percorso di recupero e si sono guadagnati anche questa giornata speciale nel carcere di Marassi, con vivi città a porte aperte. Prima un quadrangolare di calcio nel campo dell'istituto, poi una gara podistica, entrambi organizzati dalla UISP di Genova. Una manifestazione in cui lo sport diventa strumento di inclusione sociale. Un centinaio in totale i partecipanti. Di questi una trentina i detenuti che hanno partecipato con due squadre al torneo calcistico, con una formazione della polizia penitenziaria e la CDM Futsal, vincitrice. Alla gara podistica, che vedeva i nastri di partenza anche gli atleti del gruppo Città di Genova e dell'Atletica Valle Scrivia, hanno preso parte 16 reclusi. Mussa, senegalese, ha tagliato per primo il traguardo. È una cosa divertente, quindi siamo contenti di essere qua oggi, per fortuna che abbiamo detto. Un altro detenuto, Samuele, è arrivato terzo. È andata bene, un bellissimo progetto che ogni anno qua al carcere di Marassi ci danno la possibilità di partecipare. Questo vuol dire che siamo comunque in una buonissima posizione per presentarci un domani alla Libertà. Sono alcuni detenuti, diciamo, che fanno un percorso trattamentale che gli permette appunto di fare questo giro e quindi uscire, anche se in piccola parte dall'istituto, fanno questo giro intorno all'Intercinte perché hanno fatto un buon percorso trattamentale. È una missione quella di portare anche lo sport all'interno del carcere di Marassi, cosa che facciamo anche durante l'anno con altre attività. È stata la dodicesima edizione di Vivi Città a Genova. Dopo il Covid, torna per il secondo anno consecutivo.